Un mese e mezzo al voto, giorni caldissimi per definire alleanze e candidati. Bammonti si dimette da coordinatore cittadino dei riformatori in polemica con la segreteria provinciale e quella regionale. Ma il campo largo chiede ai riformatori, a noi con Alghero, di dimettersi dagli incarichi assessoriali. Oggi la giunta regionale guidata da Alessandra Todde dovrebbe revocare la delibera della giunta precedente su quattro nuovi ospedali, compreso quello di Alghero. Nuovo appello della Fuzzall'Alghero all'amministrazione comunale. Grazie Usini, ma vogliamo tornare a giocare in città. Nei prossimi giorni previsto un incontro con i tecnici per i lavori al Palamanchia. Un saluto a tutti voi, ben ritrovati. Telespettatori di CatalanTV, sempre la politica. In primo piano giorni caldissimi ad Alghero per definire alleanze e candidature. Riformatori spaccati, Bammonti lascia l'incarico di coordinatore cittadino. Intanto la riunione ieri del campo largo, anche con i cosiddetti dissidenti del centrodestra, accordo ancora lontano. Giornata di ieri significativa e altrettanto carica di tensioni. Dopo la presentazione di Marco Tedde al Catalunia sono arrivate le dimissioni del coordinatore cittadino dei riformatori sardi, Alberto Bammonti. Nonostante l'assenza ieri di Michele Costa e del segretario provinciale, Fabio Pala Tedde, ha garantito in sala il sostegno dei riformatori e la sua candidatura. Le dimissioni di Bammonti sono arrivate in aperta polemica, con la segretaria regionale e quella provinciale. Il mancato coinvolgimento del coordinamento cittadino nella delicata fase di preparazione dell'imminente competizione elettorale non solo svilisce l'impegno profuso in tanti anni di militanza all'interno del partito dei riformatori sardi, ma soprattutto impedisce di fornire un contributo decisivo all'individuazione delle risposte da dare alle molteplici esigenze del territorio. Non posso, quindi, che rassegnare le dimissioni del coordinatore in totale dissenso con questo inedito modo di operare, ha scritto l'ormai ex coordinatore cittadino dei riformatori, che oggi ha incassato la solidarietà degli altri cosiddetti dissidenti del centro-destra, i civici di noi con Alghero, il Pisdazze e Sardegna al centro-2020. Dispiace che Bammonti abbia abbandonato la guida dei riformatori ad Alghero, proprio in un momento in cui i partiti moderati hanno necessità della massima coesione al loro interno all'interno del perimetro della coalizione, dichiarato dal canto suo il candidato sindaco del centro-destra Marco Tedde. Spero che Bammonti, assieme a noi, voglia valorizzare le ragioni dello stare insieme e mi impegnerò per raggiungere questo obiettivo nell'interesse della coalizione di quello sovraordinato degli algheresi. Dissidenti del centro-destra, che nel frattempo hanno costituito il cosiddetto polo centrista e che da qualche settimana strizzano l'occhio al campo largo di centro-sinistra, ieri una nuova riunione, ma l'accordo al momento sembra lontano, alcune forze politiche e organiche al campo largo hanno chiesto senza mezzi termini agli esponenti di riformatori e noi con Alghero di dare un segnale forte di discontinuità lasciando liancarichi assessoriali. Nello specifico Andrea Montis, Maria Grazia Salaris e Emiliano Piras dovrebbero abbandonare la giunta guidata da Mario Conoci. Ora, qualche ora di riflessione, le varie parti si rivedranno domani per definire eventuali accordi o chiudere invece ogni possibilità, direttivo del PD algherese, che si riunirà invece questa sera per definire la linea da adottare da qui alle prossime settimane. E ieri abbiamo accennato alla notizia della revoca delle cariche da parte del sindaco, al presidente direttore della Fondazione Andrea De Logo e alla consigliera di amministrazione Sara Govoni. Una decisione arrivata nel fine settimana, letta ad alcuni come una dichiarazione di guerra politica, soprattutto nei confronti di Forza Italia, anche se lo stesso Conoci ha poi chiarito decisione di carattere esclusivamente amministrativo. Due decreti pubblicati nel fine settimana che hanno reso ulteriormente infuocata la situazione ad Alghero. Qualcuno ha letto la decisione di revocare le cariche, al presidente e al direttore della Fondazione Andrea De Logo e alla consigliera di amministrazione Sara Govoni come un attacco politico rivolto soprattutto a Forza Italia, anche se lo stesso sindaco Mario Conoci ha spiegato in una nota che la decisione ha un carattere esclusivamente amministrativo. Ritengo necessario fare questa precisazione per il delicato momento che si sta attraversando che potrebbe portare a dare significati politici che invece sono del tutto assenti dalla decisione, ha scritto in una nota. Tuttavia, l'emergere di situazioni rilevate in sede di comitato di governance, evidenziate dall'assessore competente e dalle dimissioni di un membro del CDA, ma soprattutto dall'analisi di atti della Fondazione, hanno reso non differibile o evitabile l'assunzione di una decisione che mettesse al sicuro l'attività della Fondazione e consentisse di fare chiarezza sulle procedure di gestione adottate, anche rispetto alle norme di riferimento e pronunciamenti dell'ANAC. Non sarebbe stato possibile, giustamente, condizionare una decisione sulla legittimità amministrativa del ruolo e degli atti assunti della guida di vertice della Fondazione a considerazioni basate sulle opportunità politiche del momento. Prima di tutto, scrive ancora Conoci, deve essere garantita, senza ombra di dubbio, la correttezza nell'amministrazione della cosa pubblica e lo si deve fare in qualunque momento risulti di doverlo fare. Questa attività non vuol dire mettere decisioni definitive sull'amministrazione della Fondazione, ma piuttosto esercitare quella condotta prudenziale cui ogni amministratore è tenuto rispetto a molteplici coincidenti evidenze che sono oggetto e saranno oggetto di verifiche ancora più approfondite da parte degli organi preposti dell'amministrazione che pongono dubbi consistenti sui ruoli effettivamente esercitati e sulla correttezza degli atti assunti. Il rapporto di fiducia che deve intercorrere fra l'amministrazione comunale e le sue parti tiopate è uno dei cardini su cui poggia l'attività di chi è stato nominato per l'amministrazione delle stesse, ragion per cui il venir meno di questo rapporto fiduciario, causato ad esempio da scarsa collaborazione o da attività sollecitate non realizzate, non può che portare alla conclusione del rapporto. Sono convinto, conclude il sindaco, che chiunque al mio posto avrebbe assunto il medesimo atto in qualunque momento fosse stato posto di fronte alle situazioni che sono emerse rispetto alla conduzione della Fondazione. Naturalmente nessuna conseguenza subirà l'attività della Fondazione Orghero che continua e continuerà a svolgere il proprio ruolo adempiendo i propri compiti istituzionali e seguendo la programmazione annunciata sempre sotto il controllo e gli indirizzi dell'amministrazione comunale. Tuttavia oggi si rende necessario appunto fare chiarezza sulle modalità amministrative adottate in modo tale da rafforzare l'attività di fondazione piuttosto che spoiler rischi che potrebbero avere effetti negativi. Intanto la giunta regionale guidata da Alessandra Todde nella riunione che si terrà a margine della seduta del Consiglio dovrebbe definitivamente accantonare la delibera della giunta su Linas sui quattro nuove ospedali a Cagliani, nel Sulcis, a Sassari e ad Alghero. La delibera del 23 febbraio che prendeva atto degli studi di fattibilità presentati dalle aziende sanitarie per la costruzione di presidi ospedali aeree che aveva fatto particolarmente discutere soprattutto perché è arrivata due giorni prima delle regionali. Oggi dovrebbe essere revocata dopo che il 19 marzo il direttore generale dell'assessorato alla sanità Francesca Piras aveva invitato le stesse aziende sanitarie con una comunicazione a non procedere nel percorso di realizzazione degli ospedali. A Castelsardo la 53esima assemblea annuale dell'Aves regionale Sardegna il presidente Vincenzo Odore lancia un appello all'aggiunta Todde per affrontare insieme le difficoltà croniche del sistema sanitario regionale. L'autosufficienza regionale non deve essere una chimera ma il traguardo di un percorso definito è un forte richiamo alla responsabilità di tutti, istituzioni e cittadini quello lanciato dal presidente dell'Aves regionale Sardegna Vincenzo Odore in occasione della 53esima assemblea annuale tenutasi domenica scorsa a Castelsardo. Davanti ad una numerosa platea composta da volontari Avis provenienti da tutta la Sardegna e con la partecipazione del consigliere di Avis nazionale Salvatore Mandarà il presidente di Avis regionale Vincenzo Odore ha illustrato i dati relativi all'andamento delle donazioni dell'anno 2023 che confermano ha affermato il nostro insostituibile ruolo nel sistema regionale sangue nello specifico nell'anno appena trascorso le donazioni totali in Sardegna sono state 80.459 di cui 56.917 sono relativi alle raccolte effettuate dall'Avis si è registrato un aumento rispetto al 2022. Siamo abbastanza generosi in Sardegna devo dire perché comunque anche quest'anno abbiamo avuto un incremento di 1.700 sacche rispetto all'anno scorso però non basta non dobbiamo abbassare la guardia bisogna essere abbastanza tempestivi soprattutto adesso che andiamo incontro al periodo estivo abbiamo con i 53.000 donatori è quello slogan che noi facciamo già da diversi anni è che due volte l'anno i 53.000 donatori potrebbero portarci all'autosufficienza spero veramente e vivamente che il nuovo assessore ci riceva il prima possibile in modo da avere un incontro per pianificare un piano strategico per l'arrivo dell'estate All'assemblea annuale che rappresenta l'evento associativo più importante sono stati anche esaminati i momenti più significativi che hanno scandito il 2023 era presente tra gli altri anche Antonio Dettori presidente dell'Avis provinciale di Sassari Abbiamo apprezzato con piacere e anche con un pizzico d'orgoglio la scelta di aver convocato l'assemblea regionale nel nostro territorio in uno dei borghi più belli d'Italia quale Castelsardo sono convinto che queste iniziative oltre che essere previste dallo statuto obbligatorie per legge per le rendicontazioni, i bilanci queste assemblee servono anche per sensibilizzare i giovani e i meno giovani i territori alla donazione del sangue, all'utilità dell'Avis che sta sempre crescendo e auspichiamo sempre di più questa famosa autosufficienza che la Sardegna vuole tantissimo Ci spostiamo ora nell'agro di Alghero precisamente nella borgata di Sassegada dove il prossimo 4 e 5 maggio la borgata ospiterà l'ottava edizione della Sagra della Fragola noi di Catalan TV siamo andati in borgata ad incontrare Mimo Pirisi, componente del comitato organizzatore e a visitare una delle tante aziende produttrici di questo delizioso frutto oggi però vi proponiamo l'intervista con Pirisi che ha parlato in particolare proprio dell'appuntamento con la Sagra Mimo Pirisi, lei fa parte del comitato organizzatore della Sagra della Fragola la borgata di Sassegada e ovviamente chi abita nel territorio si prepara per questo appuntamento che ormai è diventato importante e frequentatissimo è un bellissimo appuntamento che ormai si ripete da più di 8 anni quest'anno ha una caratura diversa si raddoppia perché si farà la festa in due giorni, sabato e domenica questa realtà produttiva ormai è conosciuta in tutta la Sardegna addirittura abbiamo anche superato altre zone molto più importanti abbiamo un grosso aiuto anche da parte dell'amministrazione della Fondazione Alghero perché sta credendo in questa nuova realtà produttiva ci sono tanti produttori di fragole qui nei dintorni siamo andati anche a trovarne uno all'interno della sua azienda agricola ma queste fragole davvero sono oltre che bellissime anche buonissime sono un'eccellenza per questo territorio i produttori stanno aumentando perché stanno credendo molto in questo prodotto stanno dando molto lavoro gli ettari in produzione sono diventati più di 40 e stiamo superando livelli che in Sardegna sono impensabili quindi ci si crede molto a questa produzione e tutti stanno credendo su questa produzione e Sassegada ne giova come borgata perché ormai è conosciuta certo, il nome di Sassegada sta girando in tutta la Sardegna e questa iniziativa che noi stiamo mettendo in piedi di due giorni è conosciuta da tutti abbiamo adesioni ad esempio di altri produttori di espositori e anche altre iniziative che racconteremo magari nella conferenza stampa che ci saranno i prossimi giorni l'Università delle Treta di Alghero si prepara ad ospitare un altro appuntamento di rilievo all'interno del programma di conferenze di questo già ricco anno accademico per l'unica data di questa settimana vista poi la pausa di giovedì per il 25 aprile questo pomeriggio alle 16.30 presso la sede di via Sassari 179 sarà ospite dell'Ute il dottor Mario Rino Me ammiraglio di squadra in congedo laureato in scienze marittime e navali specializzato in sistemi di artiglierie e missili e laureato con l'Ode in scienze delle relazioni internazionali l'ammiraglio parlerà alla platea degli iscritti e di chi sarà interessato a partecipare di resistenza e crisi management nel nord Sardegna nel settembre 1943 alla conferenza presenzieranno l'associazione armareonautica le autorità alla stessa collegate visto il profilo del relatore e il tema della conferenza sono stati invitati anche gli studenti degli istituti superiori della nostra città grande affluenza di pubblico a Sassari per ricordare un grande interprete del folklore sassarese ovvero Tony del Droh grande successo di pubblico al teatro Astra di Sassari per ricordare la figura del grande cantautore sassarese Tony del Droh autore delle più belle canzoni sassaresi con la sua versione de La Mirinzana vendette oltre mezzo secolo fa oltre 800.000 copie e fu tra i fautori e i protagonisti del periodo d'oro della musica folk sassarese i brani tradotti in spagnolo sono stati interpretati dai più grandi artisti del panorama musicale sardo Gianni Virdis Alverio Cau Mario Donato Vinci Claudio Caggiari Falò Biju Pop Federica Olla Gitan's Family Enzo Mugoni Mariano Meli ricordo con piacere l'incontro che ho avuto da ragazzino proprio con Tony che era insieme a Gio Maria Santoni e a Tazio Sidi che all'epoca erano i componenti del primo trio folk con cui poi hanno fatto anche la Mirinzana e mi dedero dei consigli che ancora ricordo e non dimenticherò mai se per caso mi avverrasse allora povero me mi strapperebbe i fatti e i bottoni dei cilè Sei Gianpaolo ti voglio raccontare una cosa molto curiosa che mi è successa quando sono andata a questo evento molto importante in Francia un gruppo della Corsica mi ha chiesto di cantare e interpretare la canzone Dromi Dromi che in spagnolo Duerme Duerme canto una canzone che si intitola Terra Mia e in spagnolo Mi Tierra Tony del Do grande figura di spicco del panorama musicale sassarese e non e stasera ho il piacere di cantare Mi Chitarra uno dei pochi inediti dell'album Carrera L'ho conosciuto ero ovviamente molto piccolo però era divertente assistere ai suoi spettacoli Perché io adoro il vernacolare quando si parla di Tony del Do stiamo toccando veramente un monumento della vernacularità Non poteva mancare questo momento di sasseresità anche con le traduzioni in spagnolo per rendere ancora di più ampio respiro la sua musica A 38 anni dalla sua morte il figlio Piero lavora da anni per preservare la memoria del padre rendendogli così omaggio con un cd dal titolo Carrera Ospiti della serata Glistentales che hanno presentato il loro nuovo brano dedicato a Beniamino Zuncheddu A presentare la serata sono stati due grandi giornalisti nonché presentatori Sandra Sanna e Nicola Nieddu e per lo sport oggi diamo spazio al calcio a 5 in particolare la fuzza all'Alguero che ha chiuso la sua prima storica stagione in Serie B nazionale purtroppo con una retrocessione ma la società algerese lancia l'ennesimo appello all'amministrazione comunale di Alghero per tornare a giocare in città la squadra infatti per mancanza di una struttura sportiva idonea ha dovuto emigrare a Usini comune che gli stessi giallorossi non hanno dimenticato di ringraziare per l'ospitalità è dallo scorso luglio che la nostra società e i nostri tesserati tifosi e sostenitori hanno iniziato una sorta di conto alla rovescia virtuale per poter rivedere le gare ufficiali della propria squadra ad Alghero si apre così l'ennesimo appello della fuzza all'Alguero squadra di calcio a 5 cittadina che chiede di poter ritornare a giocare nella propria città dopo il primo anno nella storica promozione in Serie B che ha dovuto disputare lontano dalle mura amiche della propria città a Usini siamo orgogliosi oggi di rappresentare una delle massime espressioni dello sport algherese scrivono grazie alla storica promozione in Serie B nazionale ottenuta lo scorso anno meritatamente sul campo come anche per aver avviato un'importante percorso sportivo giovanile grazie alla nascita delle squadre under 19 e under 15 e al progetto scolastico forti dei risultati ottenuti e consapevoli del nostro ruolo sportivo e sociale nel corso di ultimi anni come Fuzz all'Alghero abbiamo più volte richiamato l'attenzione su un tema fondamentale per lo sviluppo e la promozione dello sport ovvero la necessità che la città di Alghero si ponga come obiettivo ovvero quello di avere una struttura sportiva polivalente dallo scorso luglio scrivono dalla Fuzz all'Alghero a causa di nuove norme sulle dimensioni minime dei campi da gioco per il calcio a 5 nessuna struttura algherese è più regolamentare la FGC inoltre ha deciso di non concedere più deroghe merito spiegano costringendo la nostra società a cercare strutture idonee al di fuori del territorio comunale come è avvenuto per tutta questa stagione la Fuzz all'Alghero si è trovata infatti a disputare le gare casalinghe presso il palazzetto dello sport di Usini tutto ciò non può che essere stata una situazione transitoria sostenibile con estreme difficoltà solo per una stagione per riportarci grazie ai lavori promessi di nuovo ad Alghero nella stagione sportiva 2024-2025 nei prossimi giorni in programma un nuovo incontro con i tecnici comunali all'amministrazione nel corso del quale dovranno essere concordati i tempi di esecuzione dei lavori non possiamo infine per correttezza non rimarcare il fatto che in assenza dei lavori promessi la SD Fuzz all'Alghero si troverebbe impossibilitata al proseguo della propria attività sportiva grazie e Usini scrivono dalla dirigenza ora riportateci ad Alghero e proseguiamo a parlare di calcio a 5 perché si riconfermano campioni provinciali per la categoria lievi i ragazzi dell'istituto ROT di Alghero davanti ad un nutrito pubblico si è svolta a Sassari al Palas Santoru la finale provinciale dei campionati studenteschi tra le compagini del polo tecnico padroni di casa e propri ragazzi dell'istituto ROT di Alghero al termine di un incontro avvincente sempre ben gestito dai ragazzi seguiti dai prof Antonio Carboni Francesco Messina Andrea Valenti e supportati da Mattia Cherchi la squadra catalana con il risultato di 7 a 5 si è aggiudicata l'incontro per il secondo anno consecutivo così si è laureata campione provinciale garantendosi l'accesso alla finale regionale che si disputerà a maggio a Cagliari la rosa degli studenti diversa rispetto allo scorso anno ha visto impegnati nei diversi incontri Davide Angioi Dario Barbagallo Francesco Chessa Loris Ciliano Federico Cocco Andrea Doppio Cristian Giuffrida Mattia Marcomini Sebastiano Monti Ivan Paddeu Nicola Pinna Pietro Pierino Andrea Piras e Alessandro Serra e questa era l'ultima notizia dell'edizione di oggi del nostro telegiornale come di consueto vi lascio alle previsioni del tempo per domani e vi ringrazio per averci seguito arrivederci